Allora in questo video spero tantissimo che voi capiate come avete fatto nel video scorso perché devo davvero ringraziarvi e farvi complimenti per i commenti sotto il video scorso perché l'avete capito praticamente tutti e non è una cosa semplice su YouTube far capire il proprio concetto ma sono felicissimo perché nello scorso video parlavo di Broca associato al Mila ma io parlavo più che altro del ruolo che doveva andare a ricoprire nel Mila e quindi sia chi era a favore mio con il mio stesso pensiero sia chi la pensava al contrario comunque i commenti si erano basati su quello e oggi vorrei fare la stessa cosa il nome in questione è comunque importante perché è una trattativa di mercato ma è più che altro il ruolo che andrebbe a coprire nel Mila che quello su cui voglio poi leggere i commenti voglio sapere se siete d'accordo o no a prescindere dal nome poi uno mi può dire che sì quel nome mi piace e quel nome non mi piace ci sta ad esempio a me Broca non è un nome che mi fa impazzire però l'idea di quello che dovrebbe venire a fare nel Mila mi piace stessa cosa si parla di questo calciatore che il nome mi piace anche perché secondo me è un giocatore ancora importante stiamo parlando ragazzi di Hummels giocatore di 35 anni e so che qualcuno potrebbe storcere il naso e dire ma che cosa ce ne dobbiamo fare di un 35enne beh ragazzi il gran problema del Milan della prossima stagione secondo me sarà proprio questo la mentalità il carisma e aver preso anche un allenatore che non mi sembra abbia tutto questo grande carisma ed è stato proprio il grande punto debole perché poi per come giocherà Fonseca lo si potrà soltanto giudicare guardando le partite del Milan quindi sul campo ovviamente adesso si può giudicare che tipo di allenatore è ecco non è quell'allenatore con la cazzimma quell'allenatore all'Antonio Conte che ti ribalta completamente l'intero ambiente ti gasa ti galvanizza e ti dà quella carica in più ecco Fonseca non farà tutto ciò le sue idee sul campo le potremmo ripeto giudicare solo dopo però serve questo il Milan perde Kier che è comunque un giocatore che si in campo non era più utile ma nello spogliatoio era fondamentale perde Oliver Giroud ancora più fondamentale nello spogliatoio ecco perdere queste pedine ragazzi non è soltanto dire si anche per me Kier e Giroud non erano più all'altezza per giocare nel Milan sono d'accordo sono andati via li ho ringraziati alcuni li volevano anche la prossima stagione per me no era sbagliato no perché per me ormai avevano dato tutto quello che dovevano dare ma nello spogliatoio ragazzi questa gente serve e il Milan ne è priva è uno come Hummels che ha giocato miliardi e miliardi di partite tra nazionale e club ha giocato la Champions League ha giocato tutto mondiali europei ha giocato qualsiasi cosa un giocatore del genere specialmente nel ruolo di difensore centrale secondo me è fondamentale è proprio il ruolo che ti serve perché io magari un 35enne in attacco non lo andrei più a prendere anche se la scelta Giroud è stata poi azzeccatissima però io proprio andrei a puntare nell'esperienza nel carisma nella leadership proprio l'indifesa Hummels è un giocatore che ancora oggi è valido l'abbiamo visto con l'ultima stagione abbiamo visto ha fatto un'ottima stagione sono andato a sbirciarmi un po' il suo ingaggio con il Dortmund non vorrei sbagliare ma nelle notizie che ho trovato si parla di 3,7 milioni di euro quindi comunque un ingaggio importante anche se mi aspettavo qualcosina in più lui si libererà a zero e ovviamente non è che vuole andare a pagare un 35enne ok che ci serve ok che potrebbe essere utile al Milan ma mica so rincoglionito che vada a pagare ovviamente stiamo parlando di un parametro zero il procuratore ha parlato il suo agente ha detto che prima deve incontrarsi con il Borussia Dortmund perché ovviamente loro hanno la priorità su tutto però se non dovessero trovare un accordo e sembrerebbe che si potrebbe non trovare un accordo lui vorrebbe provare una nuova esperienza ha già detto no a roba tipo Asia, America, robe varie vuole rimanere in Europa ha detto vuole rimanere qui nelle vicinanze e quindi il Milan potrebbe essere la possibilità fatemi sapere voi cosa ne pensate se secondo voi potrebbe essere la scelta giusta ripeto per me il Milan quest'anno molti stanno sottovalutando l'assenza di veri leader perché io non ne vedo ragazzi anche non confondete giocatore forte con leader perché di giocatori forti ne abbiamo e abbiamo Teo Hernandez, abbiamo Leao ne abbiamo un bel po' di giocatori forti però non abbiamo di leader ecco se vuoi mi dire in questo momento chi è il leader che vedi del Milan beh io ti direi Magnan mi sa tanto di leader ma sotto Magnan, io di leader non ne vedo il nostro capitano è la cosa meno carismatica che si può vedere in mezzo a un campo c'è Florenzi che potrebbe essere uno che fa spogliatoio però uno con l'esperienza di Hummels secondo me sarebbe veramente vitale per una squadra come il Milan e ripeto con un allenatore che doveva sopperire questo perché poi a Pioli è anche mancato proprio questo Pioli non ha mai avuto quel carisma sì un po' è migliorato magari anche dopo aver vinto lo scudetto ha preso un po' più di sicurezza ma non era mai visto come un allenatore carismatico ecco era quello che ci mancava ecco perché io volevo uno come conte ovviamente non ce l'hanno preso prenderanno Fonseca che verrà probabilmente annunciato tra qualche giorno e quindi secondo me la scelta Hummels mi piace mi piace io sarei a favore anche perché poi vorrebbe dire dare più fiducia a Ciao perché poi uno magari mi può scrivere io già cerco di anticipare i vostri commenti eh sì però è meglio prendere un difensore che magari ti dà più garanzie che possa giocare sì ragazzi ma se prendi un difensore che ti dà garanzie anch'io vorrei Buongiorno nel Milan ma devi vendere qualcuno e devi cacciare i soldi poi se vuoi venire in questo momento rinunceresti a Ciao per prendere Buongiorno è un sacrificio che potrei fare però se poi mi dici oh comunque Buongiorno è irraggiungibile non è un giocatore che può venire in questo momento al Milan a sto punto cerchi di rivalutare Ciao Ciao è un giocatore già bruciato secondo voi Ciao è già finita la sua avventura del Milan può non riscattarsi beh ragazzi per quello che ho visto in campo per me Ciao ho grandissima fiducia in lui nell'ultimo periodo era veramente inguardabile confuso è successo qualcosa tatticamente non stava capendo più niente si vedeva che era completamente fuori ma non era solo Ciao il problema è questo che è quello che voglio dire fosse stato solo Ciao e tutta la difesa perfetta allora dici oh è questo che è un sopravvalutato l'abbiamo gasato un po' troppo prima ma non è all'altezza il problema è che tutti anche Tomori che comunque ha una certa esperienza si è rincoglionito completamente quindi non lo so io continuerei a puntare ancora su Ciao non sarei così contrario a questa scelta perché per me Ciao è un giocatore che potresti rivalutare e in più ripeto uno come Umels da fare da chioccia a questi ragazzi giovani sarebbe davvero l'ideale fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa notizia per quanto riguarda le altre notizie di mercato ragazzi ieri hanno cercato in tutti i modi di rovinare la domenica a noi milanisti perché ogni 5 minuti usciva la notizia in cui accelerata per Zizze due minuti dopo decelerata due minuti dopo Arsenal e Manchester United osservano Zizze la trattativa e allora il tifoso milanista iniziava già a deprimersi ma come l'abbiamo preso l'abbiamo già preso a parte il fatto ragazzi che finché non c'è la firma non ci sono le visite mediche abbiamo preso non esiste il calcio mercato odierno uno può anche dire sì fare un'intervista in cui dice sì andrò in quella squadra ma finché non vedete la firma non è nulla preso quindi non c'è niente ancora di sicuro però ragazzi tutto quello che hanno cercato di far uscire ieri era giusto per far uscire qualcosa di domenica che non è successo praticamente nulla Arsenal e Manchester che osservano la trattativa a Zizze vuol dire che se dovesse saltare la trattativa con il Milan loro sarebbero interessati magari al calciatore ma il calciatore ha già dato il suo benestare a venire al Milan il procuratore si sta convincendo ad abbassare queste benedette commissioni il Milan ha già incontrato sono volati a Londra per parlare anche con il procuratore che vive a Londra e quindi direi che la trattativa a Zizze sta andando bene quindi tutto quello che avete detto ieri tutti i rallentamenti le preoccupazioni era giusto per cercare di rovinarvi la domenica ma voi state attenti le notizie che escono la domenica consideratele sempre meno rispetto a quelle degli altri giorni per Zizze secondo me siamo in dirittura d'arrivo però non pensate è fatta ma come non viene più perché era già no è già del Milan quando firma ricordatevi sempre questo l'ho imparato negli anni facendo anche lo youtuber sempre forza Milan lasciate un like iscrivete al canale bella grazie a tutti